Oh, il mercato videoludico, che cosa fantastica! Giochi a servizio che promettono fuoco e fiamme, con anni e danni di supporto all'orizzonte, solo per poi uscire in uno stato completamente pietoso ed un prezzo pieno assolutamente ingiustificabile. Videogiochi che vengono fatti tanto per, perché secondo l'algoritmo al pubblico piace questo, piace quello, piace quell'altro, e visto che comunque altri prodotti che sono arrivati prima stanno guadagnando un sacco da quella fetta di mercato, perché non farlo comunque anche noi? Videogiochi che vengono svuotati della benché minima anima, mettendo a lavorare gente che vorrebbe fare tutt'altro e che avrebbe bisogno di una visione totalmente differente, a differenza di quelli che vogliono pubblicare il videogioco, perché l'unica visione che hanno è invece quella della monetizzazione. Recentemente, ma molto di recente, abbiamo assistito a ben due casi di questo genere, uno dietro l'altro, da degli studi di sviluppo molto grossi. Da una parte abbiamo avuto Suicide Squad, da parte di Rocksteady e di Warner Bros. Ve la ricordate Rocksteady? Sì, quando fece breccia nel cuore di milioni di videogiocatori con i suoi videogiochi su Batman, bei tempi, grandi giochi e soprattutto una visione coerente e solida, con una Warner Bros. che non era così predatoria. Dall'altra parte abbiamo la cara, vecchia Ubisoft, madrina di tante cose brutte nell'industria videoludica. Ricordiamo il caso di accuse di molesti all'interno dei loro ambienti di lavoro. Anni ed anni di videogiochi presentati in pompa magna per poi subire un downgrade ed essere rilasciati in uno stato che definire al di sotto delle aspettative è riduttivo. Vedi il caso più famoso, ovvero Watch Dogs. Videogiochi mastodontici ma essenzialmente vuoti, pieni di acquisti in game però, come skin speciali per i personaggi o per le cavalcature, nel caso dei nuovi Assassin's Creed. Tutta roba che a me fa caponare la pelle, per non dire le palle. Chi mi segue da un po' sa benissimo la mia posizione su certe scelte di mercato. Ma d'altro canto sarebbe anche anacronistico dire non devono esistere questi videogiochi qui, Games as a Service, in quanto ormai fanno parte di una fetta grossissima di mercato. Il problema principale sorge quando Ubisoft, o per fare nome e cognome, Yves Guillermo, attuale CEO di Ubisoft, se ne esce con delle dichiarazioni agghiaccianti, davvero manipolata del mercato. E cito testualmente. Vedrete che Skull & Bones è un gioco a tutti gli effetti. E' un titolo molto grande e crediamo che la gente si renderà conto di quanto sia vasto e completo. E' un gioco davvero completo, a tripla, anzi a quadrupla, che darà risultati nel lungo periodo. A parte il fatto che mi sembra che Skull & Bones abbia fatto un tonfo clamoroso e non sono sicurissimo del fatto che si riprenderà. Ma magari, sempre per prendere un esempio, in casa Ubisoft riescono a riprenderlo come Rainbow Six. Ma a parte questo, questo lancio fallito clamorosamente, il volere giustificare il prezzo al lancio, prezzo vergognoso, per un videogioco la cui maggior fonte di guadagno e sostentamento dovrebbe essere attraverso acquisti in game, è qualcosa che mi fa veramente disgusto e rabbia. E dimostra ancora una volta come tutta l'industria, non solo quella del videogioco, sia la ricerca continua del guadagno sfrenato, senza effettivamente avere un'idea chiara di quello che dovrebbe essere il progetto. Dico questo perché Skull & Bones è stato annunciato non due anni fa, non tre anni fa, ma ben sette, sette anni fa. E ragazzi, il 2017 è sette anni fa, gli anni passano, durante l'ormai defunto E3. Sembra un'altra epoca, ed è effettivamente così. L'anno successivo al 2017 fu rimandato al 2019, e poi il 2019 fu rimandato a data destinazione tra il 2022 e il 2023, per poi uscire finalmente all'inizio di questo 2024. Allora da questa roadmap, quantomeno complicata, possiamo capire che ogni progetto abbia cambiato direzione più volte, facendo perdere completamente la bussola e la benché minima visione, non dico artistica, ma quantomeno una visione aziendale. Ed ovviamente tutti questi rinvii e tutto questo rimodellare il videogioco, non hanno fatto altro che portare ad un aumento di costi di produzione, che si attestano attorno ai 200 milioni di dollari. E arrivati all'uscita diventa chiaro come questo costo sia levitato per tutti i restart avuti dalla produzione, e dunque come sia colpa dell'azienda. Non è corretto fare ste sparate da PR mettendo paraloni come quadrupla per giustificare un prezzo ridicolmente alto. La colpa è solo e semplicemente dell'azienda. Comunque, alla fine, se ci pensiamo bene e ci ragioniamo un attimino, le etichette di mercato come doppia, tripla e via dicendo, sono appunto etichette create dalle aziende per giustificare il prezzo, o per cercare di giustificarlo a fronte del budget investito in un prodotto. Ma sfortunatamente, con tutti questi termini, qui il mercato diventa sempre più inflazionato. E il termine quadrupla, tra l'altro, sarà saltato fuori per spingere altri videogiochi, come The Callisto Protocol all'epoca. Videogioco che non ho giocato, ma a quanto pare non ha suscitato tantissimo entusiasmo, sia nella critica che nel pubblico. Dunque, se la strada dei quadrupla è questa, magari meglio non andarci. Il mondo videoludico, almeno quello delle produzioni ad alto budget, non sembra essere messo benissimo, a parte poche eccezioni, e vorrei soffermarmi su un'eccezione particolare. Di recente ho iniziato la mia seconda run su Elden Ring, in vista dell'arrivo dell'espansione Shadow of the Earth Tree il 21 giugno. Avevo fatto una sola run all'epoca, ovvero due anni fa, e poi, dopo 160 ore di gioco, ne avevo avuto abbastanza. A parte il fatto che il videogioco è davvero mastodontico, forse fin troppo per i miei gusti, perché il troppo stroppia in alcuni casi, anzi in molti casi, e Elden Ring non fa eccezione. Ma le prime settimane sono state abbastanza difficili, per via di un'ottimizzazione non proprio eccellente, tanti problemi tecnici, patch su patch, che poi hanno corretto, per fortuna, tra le altre cose, enormi problemi di bilanciamento della difficoltà. Dunque, l'esperienza al Day One non è stata proprio immacolata, e mi è servito la lezione solo non comprare più videogiochi al Day One, perché il gioco, non è Elden Ring, ma il gioco in generale non va alla candela. Col passare dei mesi, poi, hanno per fortuna anche aggiunto diverse cose, come gli indicatori degli NPC sulla mappa, e tante altre migliorie alla Quality of Life, e il videogioco ne ha decisamente giovato, tant'è che splende di nuovo sotto una luce diversa, una luce migliore. E questa nuova espansione promette di dare al videogioco una nuova vita. Ovviamente non comprerò manco questa al Day One, ma è chiaro che di fronte avremo, con pochi dubbi da parte mia, un'espansione gigante, che non solo darà impegnati i giocatori per qualche cinquantina di ore, o forse più, ma sarà qualitativamente pazzesca, al netto di problemi tecnici e di bilanciamento. Comunque, dicevo prima di aver iniziato questa seconda run su Elden Ring, e al momento in cui sto scrivendo questo video, ho appena ucciso Godric, che quindi sarà intorno alle 20 ore di gioco, e già queste 20 ore potrebbero bastare per giustificare il prezzo, anche perché sono molto intense e sono clamorose. E mi sto accorgendo, forse anche più di prima, di quanto tutto questo sia definibile un miracolo videoludico. Com'è possibile che da qualsiasi posto io mi metta ad osservare la mappa, io possa vedere questi paesaggi magnifici, e addirittura anticipare cosa possa esserci in un castello lontano, studiando la mappa e quello che contiene. E questo effetto viene amplificato ancora di più con la consapevolezza dopo la prima run. Certo, la prima volta è speciale, ad esempio quando si prende l'ascensore e si arriva al fiume e si opera. Quel momento incredibile credo abbia lasciato tutti a bocca aperta. L'ascensore che scende lentamente e si inizia ad intravedere una nuova mappa, un cielo stellato, quella musica incredibile fatta solamente di core. Delle vibes da 2001 di Stena allo Spazio che sono impossibili da dimenticare. Insomma, già il gioco ti fa capire quanto enorme sia la mappa, una volta teletrasportati con il baule alla capitale reale, ma successivamente l'effetto viene amplificato ancora di più quando si scopre che è presente tutta una serie di mappe sotterranee che farebbero invidia anche all'Otrick di Dark Souls 3, per quanto estese e curate queste mappe. Parliamo di un videogioco che al 2024 ha venduto 24 milioni di copie, partendo dopo anni e anni di prodotti di nicchia, perché inaccessibili tra virgolette, in quanto punitivi e difficili, ma riuscendo a conquistare sempre più pubblico per via di un passaparola sempre più forte, un marketing molto strategico e mai esagerato, e soprattutto grazie all'aura di mistero che circonda i Souls di From Software. C'è molta furbizia nella comunicazione di From e di Miyazaki, ma è così che si costruisce un brand di successo senza rinunciare alla propria visione. Elden Ring è un videogioco mastodontico già all'uscita, senza bisogno di DLC che aggiungano mappe a 5-10 euro ogni volta, ad esempio, o microtransazioni per aggiungere armi, classi e quant'altro, cosa che un'altra casa di sviluppo, sono sicuro, non avrebbe esitato a fare. Parliamo di un videogioco che alla prima run richiede più di 100 ore per essere completato, senza contare il contenuto secondario, e che viene venduto ad un prezzo in linea con il mercato di oggi, senza appunto cercare di monetizzare con i contenuti in game. E avrebbero potuto farlo, perché chissà quanta gente avrebbe comprato armi ed armature con le microtransazioni. Si potrebbe obiettare che parecchie cose siano state riciclate dagli altri giochi, che siano le animazioni, alcune meccaniche, oppure che non ci siano animazioni specifiche per il crafting o che il cavallo si muove in maniera poco realistica, ma alla fine, veramente, chi se ne frega. Già lo sviluppo di Eldering ha richiesto uno sforzo lungo 6 anni, con altri giochi in mezzo, e questo riuso di assets di gioco ha permesso di risparmiare tempo e risorse, che altrimenti avrebbero visto lo sviluppo allungarsi e il budget necessario aumentare a dismisura. Non è che dietro From Software c'è Take-Two, come nel caso di Rockstar, che può permettersi sviluppi lunghi 8 anni o più, o si scende a compromessi, o qui bisogna aspettare un decennio per un nuovo gioco ogni volta, seguendo questa logica. Dunque io mi prendo questi compromessi ben volentieri. Ed Eldering al netto di tutto ha settato un nuovo standard per gli open world, forse fin troppo alto, anche per From Software stessa. Io infatti spero si dedicano a videogiochi più contenuti per registrare tutto al meglio, ma quello che ha fatto Eldering è veramente stupefacente, soprattutto contando le dimensioni dell'opera e la sua profondità. Non è il mio Souls preferito, perché Bloodborne continua ad essere soprattutto, seguito poi dal primo Dark Souls, ma è indubbio la qualità generale dell'opera. E se abbiamo imparato a conoscere From Software, questa nuova espansione, in uscita ben più di due anni dopo il lancio originale del gioco, sarà una roba fuori scala. Forse, e dico forse, più di Blood and Wine e The Witcher 3. E ripeto, io non è che apprezzo tutto di Eldering, ad esempio trovo che ci siano troppi boss, e che veramente dopo la capitale sia allungato e si poteva fare tranquillamente tutta quella parte in un DLC. Però appunto, tutta questa roba è meglio avercela che non avercela. E dimostra la dimensione, la grandezza di quest'opera. 40€ per un'espansione sono tanti, senza dubbio, ma se ripenso a The Old Hunters di Bloodborne e le altre espansioni di From, direi che quei soldi saranno ben investiti per chiunque voglia tornare ad esplorare quel mondo. Sempre meglio che spendere 70€ per Skull & Bones, Suicide Squad, oppure Anthem. Ve lo ricordate Anthem? Io a questo punto vi ringrazio tantissimo per l'attenzione che avete dedicato a questo video, spero che vi sia piaciuto e che possa spingervi ad iscrivervi al canale, il che mi farebbe molto contento, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!